ciao a tutti bentornati sul canale oggi sono sempre con mare paola la nostra scelta preferita e siamo siamo a rocca calascio scelto il quadratura sbagliata per iniziare e dietro noi vediamo la chiesetta di come si chiamava santa maria della pietà no qualcosa vabbè poi dico questa intro sbagliata le intro sbagliate la giornata è bella si sta da paura peccato la foschia che non fa vedere un granché le montagne nevate dietro su tutto il gran sasso che sta là intanto mettetevi comodi e vi faccio vedere come siamo arrivati qua a dopo ciao Grazie a tutti. 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 Quanto litri non c'è passare. Buon appetito. Un'altra cosa che ci è veramente piaciuta, è proprio il borgo minivale di Calaccio. Che è molto bello. E' un'altra cosa che si è scoperta sta dando libero fuoco alle sue due grandi passioni, la biologia e la geologia. Farò di lei è una paleontologa. Tu ci speri. No, no, no. Siamo arrivati all'inizio. e poi c'è la discesa verso la discesa verso Santo Stefano di Sessanio, che poi completerebbe il giranello per tornare giù al paese di Calaccio. di Calaccio. Abbiamo deciso di tornare indietro. Poi poi rimassare indietro per tornare giù al paese di Calaccio di Calaccio. o se lo schianterà come l'ultima volta. Sembra un mega insetto. o 25 mesi Corso il drone è lì, è stato fatto riatterrare ho cambiato i motori, si è calzato il vento, non ci credo hai sentito? un saluto ai tuoi fan questa berna con cacalasci buon appetito buon appetito mangiare, abbiamo mangiato, bere, ho bevuto camminare, abbiamo camminato una cosa easy però comunque molto bello, peccato per le montagne sbiadite per la boschia il consiglio è fatela a piedi, non la fate con la navetta spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto no, basta non mettere dislike se vi è piaciuto condividete soprattutto, seguitemi su instagram vi metto il link il link, grazie quella per le cose tecnologiche il link sotto e seguite il canale e ci vediamo presto per un altro video un'altra escursione in montagna con lo scherba più amato e gli italiani e non faccio gessi perché si spegne l'ice pro e ci vediamo presto ciao ciao